fratelli e sorelle in ascolto buona giornata e buona domenica vogliamo iniziare questi momenti di culto invocando il nome del signore il signore ci invita ci chiama e noi lo vogliamo celebrare con gioia perché in lui solo padre figlio e spirito santo e la nostra forza e la nostra speranza ame o signore la tua benevolenza giunge fino al cielo la tua fedeltà fino alle nuvole la tua giustizia si innalza come le montagne più alte i tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano preghiamo signore noi veniamo a te con piena fiducia perché tu solo sei per noi rifugio noi vogliamo saziarci e dissetarci in te perché tu solo sei pane vivente e acqua viva tu sei la vita tu sei la luce vera e grazie alla tua luce noi vediamo la luce e possiamo riconoscere nella persona che ci sta accanto il nostro fratello la nostra sorella possiamo riconoscere che quando siamo riuniti nel tuo nome noi siamo una comunità legata dal comune vincolo di fede dal comune vincolo d'amore siamo legati dalla comune volontà di ascoltare la tua parola di riceverne nutrimento e portare molto frutto per questo desideriamo innalzare a te la lode la preghiera e il canto amen leggiamo dal vangelo di giovanni al capitolo 9 i versetti da 1 a 34 passando gesù vide un uomo che era cieco fin dalla nascita i suoi discepoli lo interrogarono dicendo maestro chi ha peccato lui o i suoi genitori perché sia nato cieco gesù rispose né lui ha peccato nei suoi genitori ma è così affinché le opere di dio siano manifestate in lui bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre giorno la notte viene in cui nessuno può operare mentre sono nel mondo io sono la luce del mondo detto questo sputò in terra fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse va a lavarti nella vasca di siloe che significa mandato egli dunque andò si lavò e tornò che ci vedeva perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima perché era mendicante dicevano non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina alcuni dicevano è lui altri dicevano no ma gli somiglia e gli diceva sono io allora essi domandarono com'è che ti sono stati aperti gli occhi e gli rispose quell'uomo che si chiama gesù fece del fango me ne spalmò gli occhi e mi disse va a siloe e lavati io quindi sono andato mi sono lavato e ho recuperato la vista ed essi dissero dove è costui e gli rispose non lo so condussero dai farisei colui che era stato cieco ora era in giorno di sabato che gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi i farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista ed egli disse loro mi ha messo del fango sugli occhi mi sono lavato e ci vedo perciò alcuni dei farisei dicevano quest'uomo non è da dio perché non osserva il sabato ma altri dicevano e come può un peccatore fare tali miracoli e vi era disaccordo tra di loro essi dunque dissero di nuovo al cieco tu che dici di lui poiché ti ha aperto gli occhi e gli rispose è un profeta i giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista finché non ebbero chiamati i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li ebbero interrogati così e questo vostro figlio che dite essere nato cieco come dunque che egli ci vede i suoi genitori risposero sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco ma come ora ci veda non lo sappiamo né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi domandatelo a lui egli è adulto parlerà da sé questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga per questo i suoi genitori dissero egli è adulto domandatelo a lui essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero da gloria a Dio noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore e gli rispose se sia egli un peccatore non lo so una cosa so che ero cieco e adesso ci vedo essi allora gli dissero ma che cosa ti ha fatto come ti ha aperto gli occhi e gli rispose loro ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato perché volete udirlo di nuovo volete forse diventare suoi discepoli anche voi essi lo insultarono dicendo sei tu discepolo di costui noi siamo discepoli di Mosè noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato ma in quanto a costui non sappiamo di dove viene l'uomo disse loro questo poi è strano che voi non sappiate di dove sia eppure mi ha aperto gli occhi si sa che Dio non esaudisce i peccatori ma se uno è pio e fa la volontà di Dio egli lo esaudisce da che mondo in mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco se quest'uomo non fosse da Dio non potrebbe fare nulla essi gli risposero tu sei tutto quanto nato nel peccato e vuoi insegnare a noi e lo cacciarono fuori fratelli e sorelle abbiamo ascoltato questo lungo racconto dove vediamo la situazione di quest'uomo un uomo che non solo è cieco ma è pure povero è costretto a mendicare ad esibire la sua infermità per accattare un po di denaro i suoi familiari ne hanno fatto un mendicante professionista ma oltre questo il suo stato indicherebbe la maledizione divina si pensava a quel tempo che se eri ammalato specialmente di una malattia seria tu dovevi essere maledetto da Dio stavi scontando dei peccati di fatti in questo equivoco cadono anche i discepoli abbiamo detto all'inizio l'abbiamo ascoltato chi è che ha peccato lui o i suoi genitori Gesù risponde no la logica di Dio non è questo non è questa qui bene qualcuno gli da un elemosina certo ma nessuno gli rivolge una parola di speranza perché viene ritenuto pulito da Dio ebbene è giusto che rimanga così sta scontando i suoi peccati quando ad un certo punto irrompe nella sua vita la novità Gesù viene a portare una parola di speranza e lo fa attraverso un miracolo lo fa attraverso la guarigione e questo ci fa capire che Dio è contro la malattia Dio è contro la sofferenza questa è una lezione anche per noi oggi nessuno può pensare che Dio ci manda la malattia che Dio ci manda la sofferenza che Dio si compiace di vederci ammalati o si compiace di vedere le persone che muoiono a causa della malattia assolutamente altrimenti Gesù non avrebbe guarito i malati Gesù avrebbe fatto diversamente casomai gli si avvicinava gli metteva la mano sulla testa diceva bravo figlio mio bravo soffri perché così sconti i peccati no Gesù ha guarito i malati questo lo sappiamo bene il cielo è pieno di miracoli di guarigione e ci fanno capire da che parte sta il Signore con chi soffre con chi è debole con chi ha bisogno certe volte qualcuno in questo periodo si è permesso anche di dire è forse un castigo di Dio questo virus no no assolutamente forse o quasi certamente è colpa di errori umani però certamente non è che Dio gioisce di questo anzi Dio vuole la nostra salute vuole la nostra guarigione e ce lo ha dimostrato Gesù con i suoi miracoli e oggi contro il fatalismo quando si dice è così c'è niente da fare nulla può cambiare Gesù ripete anche a noi la sua parola di speranza cosa succede qual è la reazione dinanzi a questa opera meravigliosa dovrebbe essere una reazione di gioia e invece si innesca un processo davvero penoso non si vuole accettare innanzitutto l'evidenza che in Gesù si manifesta la potenza di Dio lo si ritiene un peccatore è certo l'hai guarito nel giorno di sabato cioè qui si va a pensare alla lettera della legge e non si guarda minimamente allo spirito della legge Gesù viene definito un peccatore perché ha fatto del bene e quindi ha lavorato nel giorno di sabato ha trasgredito il sabato e poi si prendono le distanze dall'uomo guarito incominciando dai genitori i quali forse già sono scontenti perché hanno perso una fonte di guadagno e hanno paura ora dell'esclusione della sinagoga e dicono no noi noi vi diciamo solo sì è nato cieco non sappiamo che gli è successo chiedetela lui è adulto parlerà da sé e a questo punto il cieco guarito viene marginato dai genitori dai giudei è costretto a difendersi in un modo semplice se vogliamo molto 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 semplice e a guardare il mondo per quello che è un mondo di ciechi cioè i ciechi sono quelli che non vogliono vedere davvero l'opera di Gesù e quindi questo cieco potremmo dire che passa da un tipo di sofferenza ad un altro dalla solitudine per la malattia ad una condizione di rottura con chi vede il mondo con le sue strutture cioè la sofferenza del testimone di chi guarda le cose storte che va che si rivedono nel mondo e però non è creduto e questo è successo a Gesù stesso è successo agli apostoli è successo a tanti cristiani e tante volte succede anche a noi perché anche noi incontriamo a volte difficoltà simili appena prendiamo un poco più sul serio il compito della testimonianza cristiana possiamo trovare opposizione lo si trovava soprattutto in passato questo l'opposizione la guerra ci sono persone lo sappiamo benissimo che sono andate sul rogo pur di continuare a testimoniare la propria fede possiamo andare incontro a derisione ci prendono in giro perché nel ventunesimo secolo crediamo ancora in dio crediamo ancora nel creatore crediamo ancora nel salvatore ma salvatore da che il peccato ma quando mai va assolutamente andiamo incontro soprattutto fratelli e sorelle all'indifferenza la piaga più grossa del nostro tempo l'indifferenza di chi non vuole neanche combattere non vuole neanche prendere in considerazione l'evangelo di nostro signore di chi dice che dio esista o non esista a me non interessa quindi continuo a vivere la mia vita però bisogna riconoscere per fortuna che insieme all'emarginazione arriva per quest'uomo un nuovo senso della vita arriva un nuovo senso della vita per quest'uomo a cui gesù ha aperto gli occhi in tutti i sensi nonostante le difficoltà il cieco guarito parla diventa un testimone anche dinanzi al pericolo e alla derisione egli non rinuncia a confessare la sua fede lo fa in modo semplice lo abbiamo visto lo abbiamo ascoltato non ha studiato le lingue bibliche l'ebraico il greco non ha studiato teologia lo ha fatto in un modo semplice questo ci fa capire che per essere testimoni dell'evangelo del signore non è necessario che abbiamo fatto degli studi approfonditi è necessario che viviamo il nostro cristianesimo è necessario che sentiamo profondamente che gesù cristo vive dentro di noi e la gente che ci incontrerà se ne accorgerà che noi crediamo che il signore gesù vive dentro di noi e anche dinanzi a questo pericolo quest'uomo continua a testimoniare e questo fatto deve essere una lezione anche per noi perché anche se noi davvero abbiamo incontrato il signore non possiamo anche noi fare a meno di confessare la nostra fede pur sapendo di andare incontro a difficoltà certo lo sappiamo di andare incontro a difficoltà le cosiddette sofferenze del testimone già ho accennato alle cause la persecuzione aperta o celata o nascosta a volte ci sono anche quelle persecuzioni più celate l'indifferenza purtroppo l'emarginazione può capitare anche questo ma attenzione tra essere ciechi per comodo e vedere è sempre preferibile vedere pure se ciò comporta sofferenza oggi fratelli e sorelle in ascolto il signore ci ripete che la nostra vita ha un senso che il nostro mondo ha una speranza è questo l'evangelo di oggi questa parola è un raggio di luce in un mondo di tenebre ancora una volta il signore ci chiama ad essere testimoni della speranza amén è un raggio di tenebre che il nostro segno di tenebre anche il nostro futuro vuoi rinnovare nella tua bontà dacci un'alvenire anche il nostro agire amore l'amore è un raggio di tenebre è un raggio di tenebre il nostro sogno è un raggio di tenebre che il nostro sogno è un raggio di tenebre Preghiamo. Ti ringraziamo, Dio Onnipotente, perché tu ascolti e accogli la preghiera di ognuno di noi, la preghiera di chi gioisce, la preghiera di chi piange, le richieste di aiuto, la stanchezza di alcuni, la difficoltà di altri, di trovare le parole giuste e anche i dubbi di coloro che sono alla ricerca. Rimani con noi, guidaci con la tua mano amorevole e lascia che possiamo anche noi essere gli uni per gli altri un aiuto reale. Senza invidie o condanne ci vogliamo sostenere a vicenda come un unico corpo, il corpo di Cristo, e come Lui ci ha insegnato. Vogliamo dirti, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore. L'amore di Dio ci ha accolti e ora Egli ci invia per condividerlo con altri. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo ci accompagna e ci sostiene. Lo Spirito Santo ci guida e ci raccoglierà ancora per celebrare insieme la sua bontà. Amen.